...posta ...a cercare Torricelli su quale c'è la chiusura da parte di Fernando Couto a terra c'è Ravanelli arbitro come vi ho detto Belga abbiamo rivisto l'intervento del giocatore portoghese su Ravanelli l'arbitro sta chiamando Couto penso che vorrà ammonirlo o verbalmente invece lo ammonisce col cartellino giallo ammunizione dunque al primo minuto di gioco per Fernando Couto del Parma è un giocatore che era già in...